Terminato l'ultimo peggioramento, giovedì si apre un periodo di tempo stabile. Una rimonta alto pressoria sbarrerà la strada alle perturbazioni atlantiche che hanno caratterizzato il tempo nell'ultimo mese. Grazie al soleggiamento dei prossimi giorni le temperature massime torneranno ad aumentare. Venerdì, fin dal mattino, il cielo si presenterà sereno e poco nuvoloso. Solo nelle ore centrali della giornata ci sarà qualche addensamento in più lungo la fascia prealpina. In quota un temporaneo calo termico dovuto alle correnti più fresche e settentrionali. In pianura, grazie all'irraggiamento diurno, torneranno a salire i valori massimi con punti intorno ai 20 gradi. Sabato cielo variabile, momenti di sole si alterneranno a passaggi nuvolosi, precipitazioni assenti, clima con estremi in pianura tra 9 e 20 gradi. Domenica giornata con sole sulla provincia ci saranno velature di passaggio che di tanto andranno ad offuscare il sole. Zero termico schizzerà quasi 3.500 metri. Per la prossima settimana l'alta pressione africana si alzerà sui meridiani creando un vero e proprio muro imbalicabili alle correnti atlantiche che proveranno ad entrare nel Mediterraneo centrale. Questo favorirà sulla nostra provincia un periodo stabile, temperature oltre le medie. valori massimi oltre i 20 gradi, in arrivo quindi la classica ottobrata.